Eccoci, bentornati su games, siamo su Zelda Tears of the Kingdom, come se è incastata la caramella, scusate, faccio un po' di mal di go, abbiate pazienza. E in questo video andremo a vedere come arrivare in questo punticino qui, cioè nel labirinto di cui ovviamente non ricordo il nome, e parliamo ovviamente di quello posizionato qui nella mappa del cielo, proprio in questo punto. Partiamo dalla torre, è da ma la torre che non mi ricordo il nome, dai un po', torre del canyon Gerudo, quindi esattamente da questo punto qui utilizzeremo la torre per schizzare in aria e volare. Detto ciò, servirà in maniera imprescindibile le sfere di energia Zonao XL, se ne avete poche, sul canale trovate il video che vi spiega come sdoppiare gli oggetti facilmente, se non lo trovate scrivetelo nei commenti, ve lo linkiamo. E poi servirà una cloche, un bel joystick per andare a guidare il nostro aeroplanino. Ditto ciò, partiamo, vi faccio vedere il percorso, magari segniamocelo per evitare di andare da tutt'altra parte, perché non si sa mai il mio senso dell'orientamento, fa schifo, e vi velocizziamo il percorso come al solito. Allora, prendiamo questo missile, lo piazziamo qui. No, proprio qui, ma che è? Ma che modo è? Ma su, non mi piace, è attaccato... Poi, tiriamo fuori la nostra cloche. Lo uscio. Lo mette dritta. Lo farò metterla dritta? Ce l'abbiamo fatta. Ok. E poi partiamo! Attenzione! Ovviamente andiamo subito ad utilizzare una batteria, vai! Scamaccia tutto, grandissimo! E poi andiamo di là. Apriamo quando si smaterializzerà il nostro aeroplano. Intanto stiamo morendo di freddo, prima caldo, poi freddo, ma che cos'è? Queste stagioni non si capisce più niente. E siamo arrivati! E qui possiamo sbloccare il labirinto. E possiamo andare a fare il sacrario, cosa che faremo noi ora. Al labirinto ci penseremo un'altra volta. Entriamo prima di morire da freddo, va! Ok, ci raccattiamo il tutto. Apriamo la cassa. Non ci interessa, grazie. Abbiamo già i nostri archi cattivi. Momenti di panico, signori! E adesso? Che si fa? Ovviamente ci ha dato un arco e una torcia per un motivo. Per cui... Poverello! Una freccetta lì. E poi una freccetta lì. Che mira terribile. Niente, ahia, posso fare. Dai! Che cos'è? Andiamo qui. Mamma mia, che paura! Un po' di aspetta un attimo! Aspetta, cioè... Ah no, questa è la cassa di prima. Eh vabbè, sono rimbambita. E vai! Ed ecco qui. L'abbiamo concluso. Detto questo, giovani, per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima!